In questo momento di chiusura dei musei e di difficoltà delle scuole, il nostro museo ha voluto essere presente con un discorso di didattica di comunità. Abbiamo infatti pensato di distribuire gratuitamente alle nostre scuole primarie dei kit che potranno essere utilizzati per un discorso proprio educativo e anche di continuità tra scuola e museo, un discorso che è nato 40 anni fa e che è a noi molto caro. Stiamo andando alla scuola primaria Tolosano per consegnare i primi kit scuola del laboratorio a giocare con la ceramica, il gioco dei formati. Il gioco non è banale perché chiediamo al bambino di individuare almeno quattro forme diverse, disegnarne una e poi scegliere quella che per lui è ottimale e passare a una fase di realizzazione ceramica con le argille. Per la scuola, su un formato molto più piccolo e che possiamo consegnare semilavorato alle scuole, si fa più o meno lo stesso gioco. I bambini sono aiutati da un video tutorial che abbiamo realizzato. Questa iniziativa è un regalo bellissimo che ci ha fatto Dario e la sezione didattica del museo delle ceramiche con il quale noi collaboriamo da tantissimo, sono proprio i nostri vicini di casa preferiti. È un gioco molto bello, molto creativo, corredato di istruzioni, di video tutorial, quindi proprio confessionato ad hoc per noi e non vediamo l'ora di cominciare.